40.000 euro per pubblicizzare la città di Ragusa tramite un canale a pagamento. E' la scelta della Giunta Municipale di Ragusa che proprio nelle scorse ore ha ricevuto la troupe televisiva di Sky Art HD ed è anche motivo di scontri all'interno di Palazzo dell'Aquila, sede del comune della città capoluogo. 40.000 euro non sono bruscolini, neppure per un comune come quello di Ragusa e questa operazione avrebbe avuto un senso maggiore se effettuata con dei canali in chiaro e non su Sky Art visibile soltanto dagli abbonati e che quindi devono pagare un tot per poter vedere un documentario realizzato con i soldi della collettività. E' quanto commenta il capogruppo del Partito Democratico Mario Chiavola alla luce di tale impegno finanziario da parte proprio del comune di Ragusa. Mi pare, afferma Chiavola, che ci sia più di qualcosa che non torni rispetto alla decisione di un sindaco, Peppe Cassì, trainato sulla giostra degli spendi e spandi da parte dell'assessore Barone che sta pensando solo a reclamizzare politicamente la sua immagine, altro che rilanciare Ragusa. Mi chiedo, continua Chiavola, quale ritorno effettivo possa avere per lo sviluppo dell'economia locale e del nostro turismo il fatto che questo documentario vada in onda su un canale televisivo a pagamento e poco importano gli spot promozionali che fanno parte dell'accordo, visto che comunque andranno sempre in onda su altri due canali della stessa compagnia televisiva. Riteniamo che la promozione nazionale e internazionale del nostro territorio vada fatta in altri modi, coinvolgendo i tour operator, facendo sì che a Ragusa possano essere create le condizioni per fare diventare il territorio una vera e propria destinazione turistica, così come invocano nei giorni scorsi alcune associazioni di categoria, attivando tutti quei canali promozionali che permettono di catapultare la nostra città al centro dell'attenzione reale e non virtuale del pianeta turistico. Secondo il capogruppo del PD, questa scelta sarebbe fortemente penalizzante nei confronti di chi continua a pagare ogni anno i tributi locali e si attende una maggiore erogazione dei servizi, piuttosto che vedere letteralmente volatilizzare le risorse economiche su cui non si potrà registrare alcun tipo di ritorno economico. Spendere e spandere, così come si sta facendo adesso al comune di Ragusa, con i soldi della cittadinanza, determina, secondo Chiavola, determina delle situazioni di insofferenza da parte di chi risiede in città che certamente condividiamo.